Quali sono le novità di questa edizione? Le novità innanzitutto sono che c'è una novità in Prato Vecchio, perché non è più Prato Vecchio ma è Prato Vecchio Stia, questa è già la prima novità. Quindi siamo nello stesso comune ma in realtà in piazze differenti che una volta erano separate ma ora sono unite. Quindi ci ingrandiamo, abbiamo un giorno in più, abbiamo dei pianisti grandiosi, meravigliosi, abbiamo delle grandissime novità, da Stefano Bollani per dire, da Nilo Rea a Francesco Tristano che è un pianista che riesce a fare sia un set classico che un set poi dopo in discoteca verso l'una di notte per cui musica elettronica e musica classica al medesimo tempo. Questa è la cosa che ci piace di più, ci piace la trasversalità, ci piace questa cosa di sperimentare, di assaggiare musiche diverse sullo stesso palco fondamentalmente. Abbiamo, per stare in stile Bando Osiris, abbiamo inventato questa cosa dei pianoforti, cioè i concerti negli orti fatti soltanto sul pianoforte, pianoforte 100%, abbiamo la grande novità è che abbiamo 30 pianisti che vengono da tutta Italia, dai conservatori e dalle scuole di musica sparse per l'Italia, da Trapani fino a Trieste, quindi abbiamo anche musicisti che si possono esibire forse per la prima volta di fronte ad un pubblico e insieme a dei musicisti che sono di grandissimo livello.